Il risveglio degli attaccanti proprio nel momento in cui serviva necessariamente che qualcuno cominciasse a fare gol, il risveglio di Lapadula che ha trovato il gol del vantaggio all'undicesimo partendo sul filo del fuorigioco e dribblandosi l'intera squadra avversaria, la doppietta di Shomulo dove è arrivata nel momento in cui il Cagliari rischiava di farsi prendere dalla Salernitana cioè quando la squadra rosso-blu ha cominciato ad allentare la tensione e quindi tre punti di fondamentale importanza, tanta gioia per questo e per una classifica che migliora ma anche qualche appunto, qualche neo che merita di essere sottolineato. Quindi se andiamo a verificare la prova dell'insieme, chiaramente un Cagliari che è riuscito ad essere travolgente a momenti nei confronti di dalla Salernitana capace di dimostrare un valore nettamente superiore ma per contro il momento in cui è andato in crisi del tutto ha subito due gole dal 3 a 0, si è fatto ritrovare sul 3 a 2. Abbiamo detto della prova di Shomulo dove è capace di realizzare il 3 a 0 in avvio di tempo ma soprattutto di trovare quel quarto gol rubando palla a Fazio che ha voluto con grande determinazione proprio come il primo. Un quarto gol che è stato probabilmente la salvezza del Cagliari, una salvezza che il giocatore Ubzeko ha voluto a tutti i costi, che il Cagliari ha voluto a tutti i costi ma con qualche protagonismo eccessivo nel momento in cui si doveva chiudere il match. Un tiro di Azzi con due uomini liberi all'interno dell'area, un'altra giocata di Viola che ha ignorato del tutto Shomulo in un contropiede. Ecco questi errori nel momento in cui stai lottando per la salvezza e devi essere una squadra unita, una squadra compatta, non si possono fare. Questi atti di egoismo sono assolutamente da censurare, da rivedere perché la partita è sempre lì che si può riaprire e se tu non la chiudi per un eccesso proprio di egoismo, di egocentrismo rischi di mettere in difficoltà tutti i tuoi compagni. Ed è curioso che sia stato proprio Azzi a sbagliare e lo stesso Viola a sbagliare l'interpretazione in quel contropiede anche perché si tratta di giocatori che teoricamente non dovrebbero essere così inesperti e in desiderio di mettersi in luce ad ogni costo. Dovrebbero essere quelli che si assumono la responsabilità di portare in porto questa salvezza di Cagliari. Chiaramente tre punti che ci aiutano tanto ma non è certamente finita. Da tutte le parti si lotta fino alla fine. Anche la stessa salernitana ce l'ha dimostrato perché sul 3 a 2 ci ha inseguito e ha tentato a sua volta di raggiungerci e magari tentare di superarci. Ripeto, oggi è stato lo show Muradov, è stato lui a caratterizzare questa vittoria nel finale, una vittoria che poteva essere dell'intero gruppo.